Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby oggi con la maglietta della Duff che vi devo far vedere ultimo acquisto, guardate che bella sono qui per un book tag ideato da me e da Sebastiano di Arancini Letterare che io saluto caramente che mi ha proposto questa collaborazione e sono stato felicissimo di partecipare allora, in che cosa consiste questo tag? Questo tag è un po' diverso dal solito in quanto ad ogni domanda avrete un'opzione da scegliere, a seconda l'opzione dovete far, cioè dovete mostrare il libro quindi non è il solito tag tipo che ne so, Cersei Lines, è un libro con una protagonista bellissima e simpaticissima no, è una specie di quiz di gioco, il titolo in questo momento non me lo ricordo, mi dovete scusare comunque vi apparirà qui da qualche parte sopra, sotto, giù, comunque vi apparirà bene, è composto da 10 domande, io ho questa cartellina che fa molto anni 90 e vabbè, partiamo subito allora, se sulla nave di fronte a te, di fronte a te le coste del occidente ma sono poco visibili che cosa fai? Allora, A, acceleri il ritmo e prosegui in modo da raggiungere le coste introsera oppure Aspetti per avere una vista migliore, allora io aspetterei, anche se comunque non sono una persona molto paziente, però facciamo finta di avercela allora, l'opzione per la pazienza è un libro che non sei riuscito a leggere o che non hai sopportato il protagonista, ma l'hai finito lo stesso io ho scelto la funche Cuore d'Inchiostro, questo libro l'ho letto la protagonista è stata veramente insopportabile, si chiamava Maggie e sono riuscito a finirlo con molta fatica domanda 2, sei arrivato a Wisteros inizia il tuo piano per la conquista del trono, per farlo decidi di allearti con una delle casate qui ovviamente tutte le casate, a seconda della casata che voi scegliete, ovviamente c'è l'opzione per la casata dei Lannister è la seguente, un libro che ti ha arricchito in modo particolare io ho scelto la storia della gabbinale del gatto che le insegnò a volare seppur sia una storia semplice, dà tanti insegnamenti, leggetelo perché è un bel libro domanda 3 vabbè poi ci sono gli Stark, i Targaryen, i Baratio, i Grey, i Joytalli, i Tyrell, gli Arryn, i Frey e i Martell io ho scelto ovviamente i Lannister perché io lovo Cersei allora domanda 3, ora hai degli alleati ti dirigi ad Aprodo del Re da lì inizierà il tuo piano hai bisogno di un consigliere a chi porresti la tua fiducia? allora a Varis o a Ditino allora considerando che a me Ditino sinceramente ispira fiducia come non so che come Hannibal Lecter dal macellaio scelgo Lord Varis l'opzione è un libro grosso e ovviamente il libro più grosso che ho è questo che è Via col vento della Mitchell che spero di leggere presto anche se ci metterò dei secoli più grosso di così si muore 4 il tuo consigliere ti dice di ricorrere alla magia per cercare di conquistare il trono a chi ti rivolgi? alla Melisandra o agli uomini senza volto? considerando che a me la Melisandra mi sta sul culo e spero che muoia tra troci sofferenze veramente cioè deve proprio schiattare scelgo gli uomini senza volto il coso del per il personaggio misterioso è un libro con un personaggio cioè l'opzione è per gli uomini senza volto è un libro con un personaggio misterioso io ho scelto Red perché c'è il conte di Saint Germain che è veramente un tipo molto misterioso io non sono ben riuscito ad inquadrarlo sinceramente però è veramente ha questo alone di mistero questa cosa che è molto 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 5 è il momento di formare il tuo esercito ma la scelta è ardua a ruoli mercenari o semplici reclute io al rue vabbè io prenderei i soldati semplici un libro con una storia semplice ma con un grande insegnamento allora io ho scelto Will ti presento Will di Green e David Levitan perché nonostante sia una storia molto semplice nonostante sia una storia comunque che non ha questi risvoltoni è una storia che comunque insegna soprattutto il rispetto per gli altri il rispetto per i sentimenti e tante altre cose bene andiamo avanti con la conquista del trono ti viene proposto di contrarre qualcosa ti viene proposto di sottrarre qualcosa di prezioso alla Targaryen la cara di Nerys Targaryen madre dei draghi liberatrice di mondi amen decidi di rubare gli immacolati o uno dei draghi ovviamente gli immacolati perché io ho ondevole per verme grigio anche se uno è un uco una saga che ha interrotto e qui si ripropone cuore d'inchiostro in quanto io l'ho incominciata ma non l'ho finita è composto da cuore d'inchiostro veleno d'inchiostro alba d'inchiostro bene domanda 7 ops c'è un traditore tra le tue fila cosa fai? lo uccidi oppure lo mandi alla barriera lo uccidi sì allora un libro dove un protagonista muore in ingiustamente io qui non è proprio il protagonista però c'è un personaggio che secondo me muore ingiustamente e io ho scelto ho scelto Aragorn perché c'è il il Bron che praticamente muore a metà libro e quindi secondo me è stata una morte veramente ingiusta perché aveva molto da insegnare al nostro caro Aragorn andiamo avanti prima della scelta ti viene consigliato di contrarre un matrimonio scegli liberamente oppure prendi in sposa la tua promessa io sceglierei liberamente quindi scegli un libro dalla tua libreria io ovviamente ho scelto Twilight come potevo non scegliere Twilight vi sei considerato che in questo momento io ho una un'affezione per questo libro e questa saga uccidetemi pure allora domanda 9 il giorno della io ho sempre con la cartellina il giorno della conquista è arrivato ma una profezia ti avverti che questo potrebbe essere il tuo ultimo giorno che cosa fai? fai del sé eh scusate questa era la mia opzione allora ignori la profezia affronti le casate e lasci che sei il tuo esercito a combattere io lascio che sia il mio esercito a combattere me ne lavo le mani sinceramente quindi un libro che hai letto tutto d'un fiato e io ho scelto Hunger Games eccolo qui che bello l'ho letto tipo in in un giorno domanda 10 è fatta il trono è tuo bene ma io non mi ci siedo sopra garantito si può taggare qualcuno però potete taggare potete taggare tutti e dedicargli un libro oppure potete taggare varie persone e dedicare a loro un libro io taggo tutti chi volesse fare questo tag e vi dedico la sedicesima luna che sto quasi per finire per la mia per il domino letterario bene questo è il tag chi volesse farlo lo faccia io ringrazio Sebastiano per avermi pensato per la sua per questa per questa idea magari in seguito collaboreremo per altre cose io vi ringrazio e vi saluto e vi dà appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale del piccolo ruby voglio ricordarvi che siccome si sta avvicinando Halloween potrete vedere dei video sul mio canale a tematica molto dark io vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima volta ciao